... Inaugurato questa mattina in piazza del plebiscito il villaggio della salute. Dopo le prime visite però l'attività è stata sospesa a causa dei forti rovesci. Si riparte domattina, domenica 24, alle ore 9. Sentita la protezione civile abbiamo deciso per motivi di sicurezza e per ripristinare e mettere in sicurezza l'intero villaggio. Abbiamo sospeso per oggi le attività previste all'interno del villaggio della salute e riprenderanno domani mattina alle ore 9. Fino alle 18 possiamo anche estendere ovviamente ci sia richiesta da parte dei cittadini.